Ciao a tutti, giriamo questo breve video per presentarvi il nuovo prodotto che abbiamo creato e pensato per voi. È il kit con un mix, un assortimento misto di perline della preziosa, con il quale vi diamo in omaggio questo fantastico libro, pieno di schemi e ispirazioni. In questo video vi mostro il contenuto del kit. Eccole qui. Tutte le perline che troverete all'interno del kit e andiamo a vedere nello specifico di che tipologie e che colori di perline si tratta. Cominciamo con le classiche rocaille, due confezioni di rocaille 11-0 nelle colorazioni essenziali crystal aluminium e metallic gold. Come potete vedere rispetto alle tole miuchi sono pacchettini un po' più sostanziosi, infatti sono imbustate da 20 grammi. Le rocaille della preziosa vengono imbustate da 20 grammi. Per la misura 11-0 appunto queste due colorazioni. Poi abbiamo scelto di farvi provare invece una misura che non abbiamo in catalogo per quanto riguarda le perline miuchi e toho, le rocaille. Quindi ancora delle rocaille ma nella misura 9-0. Anche in questo caso le confezioni sono molto corpose, infatti questa è da 20 grammi e queste qua come potete vedere sono molto più piene, sono infatti confezionate a 40 grammi. Ancora in tema di perline di conteria invece le charlotte. Le charlotte anche in questo caso sono una misura inusuale, la misura è 13-0. Le charlotte hanno la peculiarità di essere sfaccettate su un lato, cioè non sono perfettamente tonde ma una faccia è tagliata, quindi hanno un effetto diamantato che crea quindi poi dei giochi di luce una volta montata sulla creazione. Anche in questo caso le colorazioni sono metallic gold e metallic silver, un classico sempre utile. Oltre le perline rocaille nel kit troverete anche diverse tipologie di perline prodotte dalla preziosa per sperimentare un po' appunto nuovi schemi per i quali potete ovviamente prendere ispirazione anche dal libro. In particolar modo nel kit abbiamo scelto di inserire due colorazioni di forget me not, due colorazioni di preziosa candy da 8 mm e due colorazioni di perline cilli. La cosa interessante di questo kit è che il prezzo di acquisto del kit, cioè 34,50 euro, è esattamente il costo di tutte queste singole bustine sul nostro sito. Quindi come vi dicevo inizialmente il libro è un omaggio che vi facciamo noi. Infatti questo kit avrà anche una tiratura limitata appunto, sarà fino ad esaurimento scorta del libro. All'interno del libro troverete diversi schemi, tutti di Carrie Slade, tutti ovviamente realizzati con le perline di produzione della preziosa. Il libro è in inglese, ma come potete vedere gli schemi sono rappresentati, per cui è abbastanza semplice seguirli pur non parlando magari la lingua. Ecco, in questo schema per esempio si utilizzano le forget me not per decorare questa treccia e in quest'altro si realizza il bracciale utilizzando le perline cilli per realizzare questi fiori. Torno a ripetervi che è un'edizione limitata, un kit che sarà disponibile solo fino ad esaurimento scorta del libro, è un'occasione unica per appunto avere in regalo, in omaggio proprio questo splendido libro pieno di schemi e ispirazioni da seguire, quindi non perdiamo questa occasione.